Buongiorno naviganti, oggi più che una domanda è una constatazione perché ogni tanto qualcuno mi scrive dicendo beh devo dire che mi eri particolarmente antipatico perché smontavi tutte le cose in cui credevo, poi pian piano forse ho capito che le cose erano un po' diverse e quindi magari finiscono anche per ringraziarmi. Ecco, è un fenomeno molto interessante, ne parliamo oggi. Ben trovati dunque naviganti, oggi vorrei affrontare con voi questo fenomeno molto interessante per cui ci sono persone che all'inizio magari mi scrivono messaggi molto feroci, molto passionali diciamo così perché si trovano messi di fronte a dei fatti che forse smentiscono qualcosa in cui credevano fermamente e la reazione, la prima reazione umana devo dire, è proprio quella di negare questi fatti e anzi di arrabbiarsi con chi ce li presentano come se fossero le mie opinioni messe a confronto di qualcun altro, mentre quello che cerco di fare naturalmente è portare sempre quelli che sono le evidenze scientifiche a proposito di un argomento, che cosa dice oggi la scienza a proposito di un dato argomento, che cosa si è scoperto e quindi espongo quelli che sono i fatti accertati, beh insomma questo va contro la classica narrazione che troviamo in giro, soprattutto sui social, su youtube, di gente che racconta le storie più incredibili, non si cura assolutamente di quali sono i fatti e induce le persone a credere che siano quindi autentiche, ecco io non faccio quel lavoro lì, faccio il lavoro invece di chi vuole capire le cose e non credere ciecamente. E quindi poi alcune di queste persone, come dicevo, invece di cambiare e andare a seguire solamente quelli che raccontano fantasie, restano e guardano altri miei video e forse un po' alla volta iniziano a capire come funziona davvero la ricerca, come ci si fa domande in ambito scientifico soprattutto, cioè andando a valutare le singole prove e non abbeverandosi a storie straordinarie solo perché come dicevo sarebbe bello che fossero vere, no? E allora poi mi scrivono messaggi come questi che voglio leggervi, allora Nadir Zoccoletti per esempio mi scrive, devo essere sincero, all'inizio Massimo P, che sarei sempre io, non mi stava molto simpatico perché smentiva tutte quelle belle storie a cui abboccavo e volevo credere fossero vere, alieni, fantasmi, leggende, complotti eccetera. Però al contempo mi chiedevo sempre se erano vere, poi un po' alla volta ho capito la professionalità e la serietà della persona e ho trovato più credibile Massimo e sono diventato più attento a quello che vedo e che sento. Mi ha insegnato a osservare e a ragionare, poi questo non esclude che io posso sperare che qualche volta sbagli. Beh, grazie Nadir, è un bel messaggio naturalmente perché forse come dici tu, no? Restando e continuando a guardare i miei video un po' alla volta si capisce che a me non interessa dimostrare che ho ragione, non è questo il discorso, io voglio semplicemente capire le cose e condividere quello che trovo con chi mi segue, quello che trovo non sulle mie ricerche così come dicono quelli che si definiscono pensatori indipendenti, no? Che semplicemente vanno a cercare tutto quello che conferma i loro pregiudizi e ignorano tutte le evidenze contrarie, no? Io non faccio le mie ricerche, faccio ricerca nel senso che vado a fare una review di tutti quelli che sono gli studi condotti finora, quelli più attendibili, quelli meno attendibili, poi cerchiamo di capire come sono stati condotti, quanto sono credibili, quali sono le prove che portano, se sono verificabili quelle prove. È un lavoro che richiede tempo, è complesso, ma richiede anche tanta passione evidentemente, no? Voi lo sapete, se mi seguite sapete che da parte mia c'è tanta passione in quello che faccio. Non è sicuramente una questione economica quella per cui mi trovo a fare così tanti video su YouTube, ma anche a scrivere moltissimo, a realizzare i podcast, a andare in televisione. Alla fine è diventato il mio lavoro, lo sapete, perché come tutti ci dobbiamo anche guadagnare da vivere, ma la cosa principale, il motivo principale per cui io realizzo questi contenuti, soprattutto questi video su YouTube, non è assolutamente quella economica, perché se mai vi trovaste a fare anche voi video su YouTube, vi rendete conto che vivere facendo video su YouTube è veramente un'impresa quasi impossibile, a meno di non avere, sai, milioni di follower, allora forse le cose si fanno diverse, ma anche se ormai siamo a quasi 200.000, festeggeremo quando arriviamo a 200.000 iscritti, devo dire che non è assolutamente economico. Ecco il motivo per cui li faccio, è proprio quello di capire e di condividere quello che trovo. Vi leggo un altro messaggio sempre su questo filone, questo me lo manda Edge de Info, Edge de Company Limited, credo sia il rappresentante o il proprietario di un'azienda o di un'agenzia, e mi scrive, ciao Massimo, non è da molto che ti seguo, ti ho sempre reputato ed erroneamente, mea culpa, uno scettico rompi con i paraocchi, ma guardando i tuoi video ammetto che sei molto preciso e chiaro nello spiegare i vari casi nella maniera più semplice e neutrale. Adesso, come adesso, se dovessi scegliere di vedermi un video di UFO dossier o il tuo, guarderei senz'altro il tuo, grazie e complimenti. Grazie a te, Edge, o qual è il tuo nome, insomma, grazie per questo tuo commento. In effetti io, come dicevo prima, lo capisco che per alcuni il mio lavoro può sembrare irritante, un po' come il grillo parlante che spiega a Pinocchio di non fidarsi di quelli che gli vogliono far credere che se pianti gli zecchini d'oro poi cresce un albero di zecchini e Pinocchio ci vuole credere invece che esistano gli alberi di zecchini d'oro e quindi se la prende con il grillo che cerca di metterlo in guardia, poi naturalmente finisce truffato e peggio. Il ruolo di chi smonta le bufale e ci mette in guardia dai truffatori che cercano così di rendere appetibili le loro truffe e i loro inganni non è un ruolo grato, però bisogna farlo, bisogna in qualche modo risvegliare il nostro senso critico e io cerco di farlo utilizzando questi argomenti che sono indubbiamente appassionanti. Poi appunto mi fa molto piacere vedere che anche chi inizialmente mi vede in questo modo seguendomi poi capisce che il mio lavoro molto attento in cui voglio assolutamente essere chiaro, voglio essere rigoroso e attenermi a quelli che sono i fatti. Mi incuriosisce molto questo tipo di trasformazioni che c'è nelle persone per esempio che mi seguono, perché vuol dire che forse quello che sto facendo effettivamente ha un'utilità, effettivamente ha anche come dire una modalità che funziona, perché ve ne leggo un altro, questo è un messaggio che mi arriva da Biagio, Biagio Toro, che mi scrive il Biagio di 25 anni fa, oh ma quanto rompe sto Polidoro con il suo atteggiamento saccente da scettico a priori, ma dai, ha di un'antipatia più unica che rara, uffa! Il Biagio attuale, ah ce ne fossero di professionisti come Massimo che vanno a fondo delle questioni, dei fatti, che applicano il metodo scientifico senza voli fantastici, ed è pure simpatico, specie quando si confronta con il suo stalker Groucho. Ok, ti sto dando e mi sto dando implicitamente del non più giovanissimo, ma il senso del messaggio penso si sia capito. Thanks Massimo. Grazie a te Biagio per le parole anche divertenti, insomma. E sì, ripeto, è qualcosa che mi fa molto piacere vedere questo tipo di, ricevere questo tipo di commenti, di messaggi, quindi questa è una domanda che adesso vorrei rivolgere a voi che mi state seguendo in questo momento e che magari avete attraversato un percorso simile. Magari siete nella fase in cui non mi sopportate perché sto smontando qualcosa che vi appassiona, magari appunto siete già oltre o non l'avete nemmeno mai attraversata la frase, la fase del quanto è irritante questo che mi smonta tutte le mie passioni. Quindi vorrei sapere da voi che avete appunto fatto questo passaggio, quali sono i motivi che vi hanno portato col tempo, immagino, non di colpo, non da un giorno all'altro, a cambiare idea e a iniziare a ragionare in maniera più critica, a non fidarvi ciecamente di tutto quello che trovate sul web, anche se vi piacerebbe, come dicevamo prima, che fosse vero. Ecco, spiegatemi, scrivetemi qua sotto, sono molto curioso di sapere quali sono i motivi, magari in quello che ho fatto, il modo in cui l'ho fatto, se c'è qualche video specifico che vi ha aiutato a capire meglio di altri, che cosa funzionava nel mio discorso, nelle mie ricostruzioni e che vi ha convinto, che vi è sembrato particolarmente efficace. L'invito lo faccio anche naturalmente a chi ancora mi trova irritante, che cosa dovrebbe succedere per voi per farvi magari cambiare idea o comunque aprire una porta sulla possibilità che forse ciò in cui credete potrebbe non essere così come sperate che sia, cioè potrebbe essere falso. Che cosa dovrebbe succedere, che cosa dovrei raccontare, che cosa dovrei dimostrarvi, no? Anche se, questo magari è un argomento per una prossima domanda, vorrei ricordare che è sempre chi fa l'affermazione che deve portare le prove. L'onere della prova ricade su chi afferma qualcosa, cioè chi sostiene che ci sia una qualche verità nascosta e si ritiene il detentore che rovescia tutto quello che sappiamo, che abbiamo scoperto e che abbiamo determinato fino ad oggi, beh, è questa persona che ha l'onere di dimostrarlo al di là di ogni dubbio, se vuole essere creduto, no? Non sono quelli che ne dubitano a dover dimostrare che si sbaglia. A volte ci si trova anche a far questo, ma non è assolutamente il dovere di chi dubita dover dimostrare appunto che chi ha fatto certe affermazioni è in errore. Perché? Perché è così, perché se io dico che ho un esempio che faccio spesso, che riprendo da Martin Garner, se io dico che ho un unicorno nel mio giardino, lo devo dimostrare. Se dico che ho un cavallo, boh, magari qualcuno ci può credere, no? Al parco io, oppure che ne so, in campagna mettiamo, io ho un cavallo nel mio parco, mettiamo, facciamo finta che abbia un parco, no? Se invece dico ho un unicorno, al cavallo potrei credere, all'unicorno no, vorrei vedere proprio quell'unicorno, vorrei portare un esperto di zoologia che esamini il corno, che mi dica se effettivamente è così. Ma se tu mi dici, eh no, quell'unicorno lo posso vedere solo io, perché poi quando arriva un estraneo diventa invisibile, lo posso toccare, eh no, diventa impalpabile. Capite che a quel punto, se tu non puoi dimostrare ciò che affermi, è lecito dubitarne, ma sei tu a dover dimostrare che c'è quell'unicorno, non chi ne dubita a dover dimostrare che non esiste. Spero di essere stato chiaro, sarà il tema magari di una prossima domanda. Continuate a farmi le vostre domande, mandarmi i vostri interrogativi, o anche a lasciarmi i vostri commenti come quelli che abbiamo visto oggi, perché sono sempre interessanti e ci aiutano sempre a capire qualcosina in più. Ci vediamo alla prossima, a presto!